Salve amici del Centro Maic italiano, temporali ma anche un netto aumento delle temperature in arrivo con l'ultimo weekend. Vediamo allora gli ultimi aggiornamenti. Situazione sinottica nei prossimi giorni che vedrà il transito di correnti su instabilità sulle regioni del nord Italia dove non mancheranno acquazzoni sparsi. All'inizio del prossimo weekend situazione sinottica che vedrà una vasta saccatura depressionaria affondare sulla penisola iberica. Possibile passaggio temporalesco sulle nostre regioni settentrionali e in particolare al nord-ovest. Tra domenica e lunedì invece aria molto calda in risalita sul Mediterraneo centrale portando ancora una volta anomalie positive di temperature fino a 8 gradi. Per ulteriori dettagli seguite come sempre le previsioni aggiornate sia sul nostro sito che sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.